I lavori della camera stenopeica della terza C 2022-2023 Il prof Caputi vi ringrazia tutti In questo video vi illustreremo come abbiamo fatto una camera ottica Abbiamo iniziato prendendo una scatola di cartone non troppo rovinata Per un fatto estetico abbiamo cominciato a decorare la scatola attraverso bomboletti oppure pennelli Abbiamo fatto due fori quadrati nei lati corti della scatola 2 cm x 2 Abbiamo inserito dentro la scatola una rassa di carta da forno Per poi fare un foro nella carta di alluminio Abbiamo concluso il lavoro chiudendo la scatola e quindi non facendoci passare la luce E alla fine tutti insieme abbiamo decorato la camera ottica con le galassie e le costellazioni Questi sono i nostri risultati Questo è il telescopio professionale della nostra scuola vista dalla camera ottica All day long I think I'll think back to me And nothing seems to satisfy Think I'll lose my mind if I don't find something to satisfy Can you help me? Can you help me? Lock you from my brain? Oh yeah I need someone to show me the things in life that I can't find I can see the things that make true happiness I must be blind Can you help me? Can you help me? Can you help me? Can you help me? Well.. Tutti sang.. So you Say Two ва Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.